GF VIP, scoppia il caso del televoto i fan furiosi, Antonella fuori, vergogna. Esplode il caso sul televoto truccato al grande fratello VIP dopo la vittoria di Antonella Fiordelisi contro Oriana Marzoli. Il pubblico e i fan social delle reality show Mediaset sono rimasti senza parole dopo il trionfo di Antonella. Dato che per tutta la settimana i sondaggi vedevano in testa Oriana come preferita. Una vittoria che ha scatenato un vespaio di polemiche in rete e sui social, tanto da far scoppiare il caso del televoto truccato. I fan e spettatori del GF VIP sostengono che i follower di Antonella Fiordelisi abbiano usato delle pratiche scorrette per votare la loro beniamina. L'ultima puntata serale del grande fratello VIP 7 trasmessa su canale 5 è stata caratterizzata dal trionfo al televoto di Antonella Fiordelisi. La concorrente è riuscita ad avere la meglio rush finale contro Oriana, risultando così la preferita di questa settimana. Conquistando l'immunità in vista della puntata successiva del 2 gennaio, dove ci sarà una nuova eliminazione definitiva dal cast della settima edizione. Eppure la vittoria di Antonella ha lasciato interdetti i fan del GF VIP, dato che per tutta la settimana Oriana ha sempre avuto la meglio nei vari sondaggi social, dove veniva indicata come la trionfatrice di questo televoto. Il verdetto finale, però, è stato completamente diverso e in tanti hanno posto l'accento su possibili irregolarità al voto. Al punto da far scoppiare il caso del televoto truccato. Il sospetto dei fan social del GF VIP è che i sostenitori di Antonella abbiano usato dei vot per poter portare il maggior numero di voti a favore della loro beniamina e in tal modo permetterle di avere la meglio contro Oriana. Insomma, il sospetto è quello che siano ricorsi a delle pratiche scorrette per garantire la vittoria ad Antonella. E adesso chiedono chiarezza al conduttore e alla produzione del GF VIP. C'è addirittura chi sostiene che Antonella meriterebbe di essere punita dalle reality show, in cui dovessero venire fuori delle irregolarità. Antonella fuori. Da spettatore del GF VIP vorrei che la produzione e Alfonso Signorini facessero chiarezza nel corso della prossima puntata serale, ha scritto un utente sui social. E' una vergogna il risultato di questo televoto. C'è solo da pensare che sia tutto truccato per far andare avanti Antonella. Il GF VIP deve intervenire al più presto, ha scritto un altro utente e fan social delle reality show condotto da Alfonso Signorini. Augurandosi che possa essere fatta chiarezza sul televoto.